magnifica muster canto ambrosiano è uno studio provo a suonare con il flauto contralto poi lo canterò a 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 un pochino calante comunque per capire bene la melodia c'è abbastanza un'idea Magnificamustè canto ambrosiano studio del canto ambrosiano di Giovanni Vianini scuola Gregoriana Mediolanensis Milano Italia dicembre a 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